Resta difficile la situazione meteorologica nel Sannio. Dopo le abbondanti devicate ore a preoccupare sono le gelate notturne che hanno creato non pochi disagi agli automobilisti. È di una persona ferita, infatti, il bilancio dell'incidente stradale registrato questa mattina in pieno centro a Benevento, dove un'auto nell'affrontare una curva si è ribaltata a causa del ghiaccio presente lungo il tratto, caratterizzato da una ripida discesa. Sul posto sono a corsi sanitari del 118 i vigili del fuoco con le forze dell'ordine. A causa del manto stradale è scivoloso, difficili anche le operazioni di soccorso. Un mezzo dei caschi rossi è finito contro il marciapiedi per non travolgere un'auto che stava scivolando. Necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri e della volante della polizia per far rallentare il traffico ed avvisare gli automobilisti del pericolo. La pioggia caduta ieri sera in città ed anche in molti centri della provincia a causa delle temperature rigide, che in nottata hanno raggiunto anche i 5 gradi sotto lo zero, si è completamente ghiacciata. Creando pericolo per automobilisti e peduni. Situazione ancora difficile in numerosi centri del fortore della Valle del Tamaro, dove ha nevicato fino a ieri sera. Precarie le condizioni delle strade a causa del ghiaccio e delle arterie secondarie ancora da ripulire dalla neve. A Monte Falcone e in altri paesi sono comunque in azione i mezzi spazzaneve e spargisale. Anche oggi scuole chiuse in alcuni centri del fortore e del Tamaro. Ora l'attenzione dei comuni è rivolta alla messa in sicurezza della viabilità e alla nuova perturbazione che a quote collinari potrebbe portare nuove precipitazioni nevose già da domani.